La Cattolica La Cattolica La Cattolica La Cattolica La Cattolica La Cattolica Salute e buon veneno! Sì, ho voglio mettere con voi sulle parole insieme in la Tractaggio Esperanto e Volapuc Ie Pagio 265 Do li parolas pri interessa afero cio ne rechterilatas alla Esperanto e Volapuc Se uno foion uno ricevei credo per ii afero li comincia a cercare in tio afero diversa in boni flanque Cai cio cerces tio comprenneble trovas Tiom pli se li nestas tre postulema cai an statau critica analisadi sia in trovoin li estas preta trompadis in mem che non credono sui propri oculi Do Mi pensas che citiui vortoi estas tre actualai ancora valida in un tempe car in mia esperto ofte homoi nur sercias provoin polpravigi sia in antauain credoin ca se ii trovas ec hasarde provoin contrau la credo ili simple forgetas non 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 근데 non non che se pare ecc per autore noi devono essere coraggio per la analisi critica dei credi. Allora, penso che questo sia sufficiente per giocare. Mi desiraz alvi felician semain finon. Mi revidost in morgo, ciò case, e per momenti antaven sem fine. Grazie per la visione!